Allora, rivolgo anzitutto il mio saluto più cordiale a tutti gli intervenuti di questa seconda edizione della conferenza nazionale sulla ricerca sanitaria. Non voglio addentrarmi su quelli che sono i risultati, peraltro significativi. A molto inizio, in sala di sconti, l'apertura dei lavori in presenza del ministro da salute Ferruccio Fazio. In persona, in persona. In persona. Siamo organizzati perfetto. Quindi 32 eventi scientifici sulle frontiere della ricerca, 160 interventi di grandi esperti del mondo scientifico. Ma soprattutto 3.000 partecipanti fra direttori scientifici, ricercatori, responsabili di centri di ricerca, rappresentanti anche dell'industria, 150 ricercatori italiani che operano all'estero e oltre 1.000 incontri. Questo è stato il primo forum partnering della ricerca sanitaria che verrà ripetuto anche quest'anno. Devo dire, nel salutare gli intervenuti anche a nome del ministro Germini, che non è potuto intervenire per altri impegni istituzionali, che nell'ultimo periodo la collaborazione tra il ministero della salute... Ha avuto un inizio in sala di sconti... E Miur si è, devo dire, intensificata. Si è intensificata sul fronte, per esempio, del riassetto delle scuole di specializzazione che verranno, a partire dall'anno prossimo, riordinate... Conviene magari dire a Di Legge che spenga l'audio anche... Basta spegnere l'audio. A fronte del riordino, il riordino a fronte di quello che il Reale fa bisogno, come è noto, l'assegnazione delle specializzanti nel nostro Paese non è stata esattamente, Professor Lenzi, per vari motivi driven, come si dice, guidata dai bisogni, ma è stata guidata da altre logiche. Adesso noi vorremmo che sia guidata dai bisogni, e cioè le Regioni ci hanno espresso quelle che sono le necessità di specializzanti nelle varie specialità, nei vari settori. Questi sono, in base a questi, dovranno essere assegnati, in base, naturalmente, alla disponibilità degli specializzanti. Naturalmente noi non pretendiamo di fare un discorso perfetto, anche qui nell'ambito delle Regioni ci saranno delle logiche in base a quali verranno prese queste decisioni, ma almeno sono logiche di cui l'ente destinatario, cioè il Servizio Sanitario Nazionale, si rende responsabile e si rende, appunto, garante. Quindi, questa è la prima cosa. La seconda cosa è in corso di discussione adesso al Senato, un disegno di legge già passato alla Camera, che prevede che negli ultimi due anni della scuola di specializzazione lo specializzando lavori nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Verranno verosimilmente apportati qualche modifica da questo, per esempio il parere delle scuole di specializzazione, una sicura convergenza di interessi tra quello che è università e ospedale, ma sicuramente questo ci colloca in quello che sono già delle logiche oltreoceano, per esempio la residenza americana e anche di altri paesi europei. Credo che questo sia una cosa importante perché fa entrare prima le persone nel mercato di medicina, nel mercato del lavoro, le specializzazioni nel mercato del lavoro. È chiaro che questo poi ha degli influssi importanti su quello che è la ricerca sanitaria, perché è chiaro che questo va a condizionare quelli che sono di fatto poi tutti gli assetti degli ospedali di insegnamento, assetti che sono oggetto dell'altro grande discorso che stiamo facendo insieme col MIUR, che sono i rapporti tra università e ospedale e il punto dove si vuole arrivare, ne abbiamo già parlato diverse volte, è un punto in cui da un punto di vista funzionale quelli che sono gli obblighi, gli impegni e i diritti degli universitari siano corrispondenti a quelli degli ospedalieri, con quelli che chiamiamo ruoli a scavalco, cioè prevalentemente o istituzionalmente un ruolo assistenziale dell'ospedaliero, didattico, dell'universitario, con la ricerca che sia istituzionalizzata per entrambi i ruoli. Questo come già avviene in molti paesi all'estero, io mi ricordo quando stavo in Inghilterra, di fatto io ero in carica al Medical Research Council, avevo dei contratti onorari con l'ospedale e con l'università, ma ero indistinguibile dall'esterno, da un medico, da un paziente che arrivava rispetto a un ospedaliero universitario. A questo io credo dobbiamo arrivare, cioè alla corrispondenza dei ruoli che porterà evidentemente e dovrà portare anche a una maggiore coesione da un punto di vista di quello che sono anche i rapporti. non solo, ma sempre riguardo alle specializzazioni ci si avvia verso una riduzione nei limiti del possibile e quindi a un numero di anni di specialità che sia il massimo, il minimo rispetto a quello che sono le norme europee. Un altro aspetto in cui collaboriamo molto, che è fondamentale col MIUR, è l'osservatorio per la formazione dei medici di medicina generale. Noi non ci stancheremo mai di sottolineare che il futuro della sanità del nostro Paese è sul territorio, non potremo avere sostenibilità se noi pensiamo alla sanità in un futuro esclusivamente ospedalocentrica e quindi il medico di medicina generale che lavora in associazionismo, che lavora con metodologie tecniche nuove, che di fatto è anche stimolato a fare delle cose intellettualmente, scientificamente e concettualmente appunto di rilievo e di frontiera. Noi dobbiamo stimolare i giovani a seguire questi percorsi. E ultimo, naturalmente, last but not least, la ricerca di cui si parla oggi. L'anno scorso questo forum, come abbiamo detto, è stato incentrato sul ricercatore italiano all'estero, c'è stato questo censimento, sono stati censiti oltre 350 ricercatori italiani all'estero. Molto interessante sono i numeri che ci dicono a che classi di età corrispondono questi ricercatori. Perché sono senior? Perché sono senior e quindi sono delle persone che si sono definitivamente consolidate. Non tutti, ma ce n'è molti senior. Sono oltre il 60%, sono oltre 50 anni. Mentre circa il 37% sono dai 30 ai 40 anni. Questi ricercatori, dopo essere stati censiti, ne sono stati invitati 100, sono stati che sono venuti l'anno scorso, come molti di voi sanno, e hanno partecipato attivamente al forum dell'anno scorso, dove sono stati lanciati una serie di iniziative che poi hanno avuto seguito. Una delle iniziative che ha avuto seguito è stata l'attivazione del bando di 10 milioni di euro per collaborazioni con i ricercatori italiani che lavorano all'estero. Bando destinato a ricercatori italiani che però, al fine di collaborare con i ricercatori italiani all'estero, che prevede una relazione di questi ricercatori, abbiamo già avuto oltre 400 progetti che vengono esaminati. Quindi c'è stato un grande successo di questo bando. Alcuni dei ricercatori, una decina di ricercatori italiani all'estero, sono stati invitati a Cernobbio, anche se il focus non era sui ricercatori italiani all'estero, per partecipare a questo. Devo dire che sono stato una quindicina di giorni fa negli Stati Uniti, dove ho incontrato il Ministro della Salute degli Stati Uniti, il Secretario di Stato della Salute Sebelius, che è stata estremamente interessata al problema degli americani e degli italiani che lavorano in America, e quindi di questo network virtuale che abbiamo messo in piedi, e che è basato sul concetto, che è un concetto che, di nuovo, non ci stancheremo, come quello del territorio e dei medici in generale, di ripetere. Non è che noi abbiamo la fuga dei cervelli, noi abbiamo dei pessimi meccanismi, diciamo, di contratti pubblici di impiego, e questo è il problema, che non si attagliano, non si applicano a quello che è il concetto della ricerca. Tutti sanno che l'età media di un ricercatore, in base a quelli che sono i criteri, per esempio, dell'NIH, che all'estero è dovuta al tempo in cui riesce a procurarsi grandi ricerche, sono sette anni. Quindi, noi ben sappiamo che il ricercatore è un lavoro che uno lo fa per un certo periodo di tempo e poi può essere avviato a altre carriere, tra cui anche quella del ricercatore senior, ma che è una delle tante carriere a cui può essere avviato, può fare il medico nel caso della medicina, può fare il medico ospedaliero, può fare l'universitario, può andare nell'industria. Allora, noi dobbiamo creare, lo stiamo cercando di fare, negli istituti di ricovero cura a carattere scientifico, in special modo in due istituti che sono l'Istituto Tumori di Milano e l'Istituto Tumori di Genova, stiamo lavorando sulle tenure track, cioè di creare dei percorsi in cui i ricercatori sappiano qual è il percorso, qual è la strada che possono seguire. Io dico che il precariato è figlio di promesse mancate, non è figlio di un cattivo sistema che è un sistema che dovrebbe comunque permettere la mobilità. Quando, ripeto, io lavoravo all'estero, la mobilità era una cosa naturale, io che venivo dall'Italia mi stupivo di uno che continuava a cambiare lavoro, che andava da un posto all'altro. Chiunque ha lavorato all'estero sa che questa è la regola e non l'eccezione. Quindi noi non possiamo applicare il contratto di metalmeccanici alla ricerca scientifica, perché sono due robe diverse. Ecco, quindi questo, invece, quindi noi non abbiamo nessuna emorragia, noi abbiamo una fisiologica andata di cervelli in paesi dove ci sono delle possibilità fatalmente di finanziamento, diciamo, superiore al nostro. I cinesi, i cinesi hanno mandato, ma credo, si parla addirittura, credo di milioni di persone, diciamo, negli Stati Uniti, la grandissima maggioranza dei quali non sono mai rientrati, ma la Cina non ha mai parlato di managia di cervelli negli Stati Uniti, ecco, e gli Stati Uniti sono pieni di ricercatori cinesi. Quindi, io credo che è in questa direzione che dobbiamo andare, noi dobbiamo pensare e credere in direzione del fatto che i ricercatori italiani adesso sono una risorsa importante. Sono un'importantissima risorsa, sono italiani, dobbiamo tenerli collegati con l'Italia, l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto, io credo, con questo, facendo, ma non solo con delle cose formali, perché i ricercatori italiani all'estero si sono sempre limitati e lamentati del fatto che non potevano rientrare in Italia perché c'erano le baronie, perché c'erano le lobby. Bene, sapete chi è che ha fatto la study section per il Ministero della Salute degli ultimi bandi della ricerca finalizzata sia dei giovani ricercatori sia quelli, diciamo, ordinari, non dei giovani ricercatori. I ricercatori italiani all'estero, questa è stata un'ottima idea del dottor Caccello che devo qui pubblicamente ringraziare, i ricercatori italiani all'estero sono stati quelli che in caso in cui i referi internazionali avevano delle discrepanze, se non c'erano delle discrepanze il progetto era assegnato, in caso che non c'erano delle discrepanze sono quelli che hanno assegnato il progetto a uno piuttosto che a un altro. Quindi, diciamo, abbiamo fatto il concetto di controlobby, se vogliamo. Questi sono i modi con cui noi possiamo realmente utilizzare queste persone e fare in modo che facciano a tutti gli effetti parte del nostro paese. Quindi, ripeto, i ricercatori italiani all'estero sono un asset importante che però quest'anno abbiamo cambiato argomento e gli argomenti direi principali per sintetizzarli sono due. Sono la ricerca traslazionale e il rapporto pubblico-privato che sono due aspetti a nostro avviso di rilievo. Naturalmente la ricerca traslazionale e adesso non vado a fare il solito discorsino from bed to bench ma anche non solo from bench to bed ma anche from bed to bench che e cioè la possibilità quando esistono dei laboratori molto raffinati di fare delle indagini su quello che la natura ha creato in un singolo paziente che sono dei modelli che nell'animale non riuscirai mai a creare modelli di patologia che nell'animale non riuscirai mai a creare quando vedi i miei maestri mi insegnavano sempre che spesso si impara di più da un ammalato che da decine di o di animali o comunque di studi programmati ma dall'ottenta osservazione di un ammalato che si presenta con una patologia nuova o con una forma nuova di una patologia conosciuta studiandola con grande accuratezza e quella è la ricerca tradizionale naturalmente from bed to bench e poi c'è quella from bench to bed dal banco di laboratorio al letto dell'ammalato che tutti noi conosciamo naturalmente non voglio entrare nel dettaglio di questo vorrei solo sottolineare che presenta naturalmente dei problemi la ricerca tradizionale cioè si parla di ricadute ma le ricadute sono dirette sulla persona o possono anche essere ricadute indirette io questo è uno dei grandi quesiti che devono essere posti che vengono posti e di questo si parlerà credo appunto qui a Cernobbio in questi giorni cioè la definizione di ricerca tradizionale questo per noi è importantissimo perché il ministero ha deciso di finanziare nell'ambito degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico solo ricerca tradizionale lasciando naturalmente all'università e al consiglio nazionale delle ricerche il finanziamento della ricerca di base della ricerca fondamentale questo proprio ma proprio in base alla legge perché voi sapete che la legge non so se la 502 la 502 prevede proprio che la ricerca finalizzata del ministero della salute la legge istitutiva della ricerca finalizzata prevede che questa ricerca finalizzata sia su argomenti del piano sanitario nazionale quindi nell'ambito del piano sanitario nazionale è proprio previsto quindi è evidente che non ci sono argomenti di ricerca di base nel piano sanitario nazionale questo è chiaro ed evidente quindi non solo ricerca sanitaria nessuno parla di ricerca sanitaria nel piano sanitario nazionale c'è il grande capitolo dei tumori c'è il grande capitolo delle malattie cardiovascolari delle malattie metaboliche la ricerca transazionale in questo è oggetto della ricerca e quella sanitaria è oggetto della ricerca finanziata dal ministero della salute l'altro grande problema direi di grandissima attualità in questo momento in cui si parla di sviluppo si parla molto di sviluppo nel nostro paese si parla anche di come il governo stia cercando di fare delle iniziative per lo sviluppo in assenza in assenza o comunque in una situazione economica grave è il problema pubblico privato devo dire che il problema pubblico privato in ricerca biomedica e vi assicuro che ci sono cresciuto anch'io con questo concetto è sempre stato un po' un tabù un qualcosa di non ben chiaro ma sapete perché è stato qualcosa di non ben chiaro perché nel nostro paese purtroppo si vive troppo di regole e poco di principi perché se uno avesse dei sani principi che sa di portare avanti se uno avesse come principio la trasparenza fosse naturale che uno calca un principio la trasparenza non ci sarebbe non ci sarebbe questo tabù ma se ci sono solo delle regole le regole servono a mettere dei paletti e poiché chi si nutre solo di regole evidentemente per definizione in qualche modo tende a non rispettare i principi è chiaro che ogni volta che si va vicino al paletto tutti si spaventano e drizzano le orecchie quindi questo è uno dei nostri problemi in cui non è che possiamo fare moltissimo ma qualcosina forse possiamo fare intanto abbiamo passato sempre un disegno di legge in Parlamento quello di cui parlavo prima sulla sperimentazione pubblico privato c'è un disegno di legge che è passato alla Camera sulla semplificazione del numero ma anche delle procedure dei comitati etici per favorire la sperimentazione di fase 1 e fase 2 nel nostro paese questo credo che sia molto importante come è importante poi a valle lavorare cosa che stiamo facendo con farmindustria e con AIFA per andare a rendere da un lato trasparenti ma anche a fare ad avere delle regole precise in termini di analisi costi benefici di quello che possono essere l'utilità dei nuovi farmaci l'utilità dei farmaci innovativi è chiaro ed evidente che diciamo farmaci innovativi non lo sappiamo hanno delle logiche molto precise essendo appunto target per malattie come il tumore spesso multifattoriali hanno evidentemente l'attacco su un target che noi non sappiamo se è espresso su una patologia che è un derangimento metabolico che non sappiamo se è espresso da quel particolare paziente in quel particolare momento della malattia benissimo allora noi dobbiamo andare insieme con l'industria dobbiamo andare a trovare delle regole condivise per andare a darli soltanto ai malati che verosimilmente se ne avvantaggeranno per non arrivare a quello che ha fatto l'Inghilterra che ha tolto i farmaci anti-angiogenetici dal rimborso questo noi non lo vogliamo fare quindi stiamo studiando payment by results stiamo studiando tecnologie i registri tecnologie di cost sharing proprio a questo fine quindi la maggiore diffusione di quelli che sono i farmaci sul territorio ma una diffusione regolamentata laddove si capisca cosa significa improvement cosa significa il vantaggio che è portato dal farmaco il vantaggio se è una settimana di vita oppure se in termini di qualità di vita è un grande vantaggio e lo è anche in termini di durata di vita quindi questo è un discorso che lo dobbiamo che va evidentemente valutato a fondo quindi sia la specificità sia quelle che sono l'innovatività vera espressa in effettivo vantaggio da un punto di vista della prognosi non solo quad vitam quad valitudine ma anche proprio quad qualità di vita un altro aspetto importante che noi stiamo presentando e presenteremo nel decreto sviluppo e forse anche nel maxi ammendamento è un per rimediare in parte alla alla visione a mio avviso abbastanza mio perché è quella del non rifinanziamento dell'articolo 20 di una di una revisione del project financing in sanità con degli aspetti di defiscalizzazione io credo che la defiscalizzazione sia del project financing ma sia anche evidentemente di quello che il pubblico privato da un punto di vista della ricerca sia un qualcosa che semplicemente non dovrebbe non dovrebbe semplicemente essere discusso nemmeno e io mi auguro che la politica prevalga sui tecnicismi di tipo ragioneristico a questo fine bene altri aspetti da un punto di vista del pubblico privato pratici noi abbiamo avuto questo bando di 5 milioni cofinanziato con altre 5 milioni dall'industria su cui abbiamo avuto 8 domande questo sempre nell'ambito del bando 2010 questo è proprio un'iniziativa che si colloca a fianco del forum partnering si parlerà in questo forum della trasferibilità dei prodotti sia per quello che attiene la parte farmaceutica sia per quanto attiene la parte dei dispositivi io credo che farmaci e dispositivi noi collaboriamo con grande direi soddisfazione io voglio qui ringraziare veramente tutti i produttori di farmaci Assobiotech fondamentalmente farmindustria proprio anche per la comprensione che stanno avendo in questo momento così difficile in cui il governo deve fare tutta una serie di manovre e abbiamo trovato degli interlocutori devo dire veramente straordinariamente comprensivi io credo che perché forse però anche noi abbiamo proposto delle cose logiche io penso che è chiaro che tutti si rivoltano contro i tali lineari se i tali non sono lineari ma i tali seguono delle logiche sia l'industria ma sia anche i cittadini sono evidentemente io credo molto più disponibili da accettare l'Italia infine questo forum partnering che è la facilitazione il facilitare lo sviluppo di progetti condivisi e di collaborazione fra ricercatori istituti di ricerca e imprese e imprese cui partecipano naturalmente anche i ricercatori italiani all'estero è stato un successo negli anni negli anni scorsi ci auguriamo che sarà nell'anno scorso ci auguriamo che sarà un successo anche adesso quindi non mi resta che augurarvi buon lavoro grazie grazie grazie